Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, regina immacolata, celeste madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti su spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi, perciò sovrana regina a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen Nel silenzio del cuore La preghiera aiuterà A donarmi con amore Per il regno che verrà Questo tempo è per voi Senza di voi Mio figlio non potrà Realizzare sulla terra La sua volontà Cari figli vi invito A ringraziare tutti Dio Per le grazie che vi do Attraverso di me Io vi guardo e benedico Non dimenticate Pregate 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 22 aprile 1928 Pregate L'amore della sovrana regina è diffuso in tutto il creato perché il Fiat nel suo slancio infinito lo diffondeva ovunque pregate la sovrana regina che venisse in mio aiuto, che mi prestasse il suo amore per poter amare col suo amore di madre il mio dolce Gesù e Gesù ha soggiunto. Figlia mia, l'amore della sovrana celeste è diffuso in tutto il creato perché quel fiat che solo col pronunziarsi aveva slanciato in tutto l'universo tanta varietà delle nostre opere e datogli la vita abitava in lei ed essa il suo amore e tutti gli atti suoi li emetteva nel fiat divino il quale non sapendo fare cose piccole ma grandi e senza limiti nel suo slancio infinito diffondeva l'amore a tutti gli atti della mamma celeste nel cielo nelle stelle nel sole nel vento nel mare ovunque ed in ogni cosa il suo amore diffuso ovunque i suoi atti li trovi dappertutto perché il mio fiat dovunque li diffondeva ed animava tutto con l'amore e con gli atti di lei né io sarei stato contento né mi sentirei amato ed onorato se non trovassi in tutte le cose fin sotto la terra l'amore e la gloria che mi dava la mamma mia sarebbe stato un amore spezzato ed una gloria divisa se non la trovassi in tutta la creazione molto più che in tutte le cose l'avevo amata e dunque era giusto che in tutto trovassi il suo amore diffuso e sempre in atto di amarmi e di glorificarmi né avrebbe potuto farmi breccio un amore spezzato che non mi corresse ovunque appresso e quindi non avrebbe potuto tirarmi dal cielo in terra nella stretta prigione del suo seno materno le sue catene d'amore furono tante per quante cose creai in modo che io scesi dal re in modo in anellato ed accerchiato dalle catene d'amore della regina del cielo e se il suo amore giunse a tanto lo deve al mio fiat divino che regnando in lei da sovrano rapiva il suo amore nel mio volere e lo allargava dovunque e gli atti di lei ricevevano tutti le tinte degli atti divini perciò e l'invito di gesù a lui si è rivolto anche a noi se vuoi l'amore della mamma regina fa che il mio fiat di domini diffondi il tuo amore e tutta te stessa in esso affinché il mio fiat rapendo il tuo piccolo amore e tutto ciò che tu fai lo allarghi e portandolo ovunque dove esso si trova cioè dappertutto trovi unito all'amore della mamma mia il tuo amore e tu mi darai il contento che la piccola figlia del mio volere non mi dà un amore spezzato e diviso ma amore in tutte le cose e dappertutto nascondiamo i nostri atti negli atti della celeste mamma che sopprisce per noi mentre continuavo il mio giro in ciò che è stato fatto nel volere supremo scrive luisa nel volume 22 novembre 1926 sono giunta a tutto ciò che aveva fatto la mia mamma celeste in esso e le dicevo sovrana regina vengo a nascondere il mio piccolo amore nel mare grande del tuo amore la mia adorazione verso dio nell'immenso oceano della tua i miei ringraziamenti le nascondo nel mare dei tuoi le mie suppliche i miei sospiri le mie lacrime e pene le nascondo nel mare delle tue affinché il mio ed il tuo mare d'amore sia uno solo la mia adorazione la tua sia una sola i miei ringraziamenti prendano la larghezza dei tuoi stessi confini le mie suppliche lacrime e pene diventino un solo mare col tuo affinché io abbia i miei mari di amore di adorazione eccetera affinché come la tua sovrana altezza impetrò con questo il sospirato redentore così anch'io mi presenti con tutti questi mari innanzi alla maestà divina per chiederle per pregarla per scongiurarle il regno del fiat supremo mamma regina debbo servirmi della stessa tua via dei tuoi stessi mare di amore di grazia per vincere a fargli cedere il suo regno sulla terra come lo vincessi tu a far scendere il verbo eterno non vuoi tu aiutare la tua piccola figlia a darmi i mari tuoi per farmi ottenere che presto venga il regno del fiat supremo sulla terra ora mentre ciò facevo e dicevo pensavo tra me la mia mamma celeste non si occupò ne ebbe tanto interesse del regno del fiat supremo che subito venisse a regnare sulla terra ebbe interesse del sospirato redentore l'ottenne e del fiat divino che era più necessario e che doveva mettere il perfetto ordine tra creatore e creatura non si occupò mentre aspettava lei come regina e madre di rappacificare la volontà umana alla divina affinché regnasse col suo pieno trionfo in questo mentre il mio amabile Gesù mi ha detto tutto bontà figlia mia la missione della mia inseparabile mamma era per il sospirato redentore e la compì perfettamente ma tu devi sapere che tutto ciò che feci tanto io quanto essa la sostanza la fonte la causa primaria era il regno della mia volontà ma siccome per venire questo era necessaria la redenzione mentre nei nostri atti al di dentro c'è il regno del fiat al di fuori nell'esterno dei nostri atti eravamo tutti intenti ed occupati per il regno della redenzione per il suo vivere nel fiat divino la gloria della vergine il superabile in virtù di esso accentrò in sé tutte le creature concependolo nel materno suo cuore e bilocando il suo figlio Gesù in ciascuna creatura nel suo cuore concepita con l'aiuto della madonna avendo di nuovo udito e tante meraviglie sul suo conto ci apprestiamo a meditare questi due brevi ma intensi brani allora iniziamo dalla preghiera di guisa che poi Gesù spiega ulteriormente ed esorta tutti noi a fare la fa la cena nel primo dei due brani invece proprio la la estrinseca la esterna nel secondo dice pregavo la sovrana regina che venisse in mio aiuto che mi prestasse il suo amore per poter amare col suo amore di madre il mio dolce Gesù ora perché tutto questo dobbiamo pensare sempre al primo comandamento amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le tue forze oltre che al primo il primo mistero fondamentale della nostra fede cioè l'unità e la trinità di Dio che non è altro lo festeggeremo a breve tra non molti giorni nella solennità liturgica della Santissima Trinità dopo la festa di Pentecoste cioè che Dio è uno e trino e l'essere Dio uno e trino non è altro che la l'attestazione la dimostrazione se vogliamo la manifestazione del suo essere intrinsecamente amore il fatto che Dio pur essendo uno sia trino nelle persone dipende semplicemente dal fatto che essendo la divina essenza messa in atto dalla divina volontà come sappiamo l'amore l'amore necessita una relazione un tu un qualcuno su cui tutto riversare un qualcuno da cui essere ricambiato è un circolo continuo di questo amore un circolo continuo dell'amore nella Santissima Trinità è lo Spirito Santo che è l'amore del Padre e del Figlio queste sono le quattro cose che riusciamo a balbettare della Santissima Trinità ma sono vere certamente colgono il mistero ma la nostra rappresentazione ne è completamente inadeguate anche le parole sono molto sproporzionate rispetto a ciò che che il mistero è che cos'è la vita cristiana? la vita cristiana prima innanzitutto come dice San Giovanni è la scoperta e l'accoglienza del mistero dell'amore di Dio cioè non si tratta soltanto di capire, comprendere o credere che Dio esiste ma si tratta di credere, capire, comprendere soprattutto accoglie il fatto che Dio mi ama con amore eterno Dio mi ha pensato Dio mi da tutta l'eternità Dio mi ha creato Dio mi vuole felice Dio mi ha ricolmato di beni come la Madonna canta nel Magnificat tutto questo purtroppo gli esseri umani non lo vedono non lo sanno o non lo vogliono vedere e non lo vogliono sapere questo non sta a noi giudicarlo l'esperienza comune è che quando qualcuno si accorge accoglie è toccato dall'amore di Dio comincia a capire il primo comandamento e a viverlo e comincia anche a capire un'altra cosa che a Dio non gli si può dare un amore un amoruccio un amorucolo le briciole come fanno gli esseri umani cosa danno gli esseri umani a Dio chi ancora gli dà qualcosa perché qualcuno proprio zero assoluto le briciole del proprio tempo le briciole del proprio cuore le briciole dei propri soldi io sono parroco le sacrestane che raccolgono le offerte insomma in giro per le cose a volte si trovano le monetine da 1 o 2 centesimi per carità premesso che se ci fosse la vedova evangelica la monetina da 1 o 2 centesimi per lei è un grande sacrificio no? però senza chiaramente questo è un esempio per stimolare la riflessione lo supponiamo che una persona benestante mette 1 o 2 centesimi cosa dice questo atto in sé d'accordo? senza chiaramente voglio giudicare dice che la persona nostro signore gli sta dando proprio proprio le briciole 1 o 2 centesimi insomma sono veramente zero no? ecco gesto significativo gesto significativo cioè significativo emblematico espressivo chi entra in chiesa come dire se ci entra una volta ogni quando si ricorda magari entra accendo una candela perché rida meglio questo che niente si capisca sempre bene il senso di quello che sto dicendo ma è poco chi comincia a comprendere queste cose che cosa fa? comincia a dare a Dio di più ma non è un dare tanto per fargli un favore dice poi gli do qualcosa perché poi gli facciamo un favore all'altissimo ma è un dare che essendo un dare di ricambio quindi è quasi nulla rispetto al molto che si percepisce continuamente ricevere e aver ricevuto e quindi che succede? si intensificano le cose che l'uomo dà Dio magari comincia ad andare a messa tutte le domeniche e comincia a pregare con un po' più di regolarità poi si può andare avanti 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 ci può andare a messa tutti i giorni poi si possono fare i digiuni le opere di misericordia altro che un centesimo si cominciano a fare le mosi e poi i santi si sono sbizzarriti come con tutte le fantasie possibili immaginabili ma si tratta semplicemente di un amore di risposta e la percezione che se ne ha che sia sempre poco che sia sempre inadeguato non all'altezza chi è che ha dato a Dio ciò che merita San Tommaso da qui non mica l'ultimo arrivato dice che il primo comandamento è impossibile attuarlo con perfezione tutto il cuore tutta l'anima tutte le forze però c'è una creatura che possiamo dire che questo comandamento almeno da un punto di vista soggettivo quindi perché Dio non si può dare tutto quello che merita però l'ha adempiuto questo è quello che sapeva San Tommaso da Quino al suo tempo non conosceva gli scritti di Luisa e si chiama Maria e la Madonna da un punto di vista soggettivo cioè quanto la creatura può dare al creatore l'ha adempiuto perfettamente più di quanto l'ha amato Maria non si può amare il Signore però cioè immaginiamo quanto possa essere grande l'amore della Madonna insomma se lo potessimo considerare in sé quindi proveniente dal suo cuore lasciamo perdere la Divina Volontà sarebbe qualche cosa di immenso eppure sarebbe ancora troppo poco per il nostro Signore perché quello che ha fatto la Madonna ha amato ininterrottamente Dio con la Divina Volontà e nella Divina Volontà ecco perché questo è l'unico modo per dare a Dio ciò che gli è dovuto e ciò che si merita perché l'amore che Dio merita è un amore infinito ininterrotto quindi che non conosca interruzioni temporali e non conosca limiti di spazio Dio di tutto vediamo anche la vita di Gesù di Maria le offerte che Dio ha chiesto a entrambi dobbiamo sempre ogni tanto pensare cosa può essere stato per la Madonna partecipare alla passione vedere Gesù ridotto come stava ridotto io penso che non c'è mente umana né cuore umano che possa rappresentarsi queste cose non ci sta però cioè poteva essere chiesta alla Madonna una prova più grande di questo un dolore più grande di questo il significato soprannaturale oltre a tutti gli altri che adesso qui non ne stiamo quindi la corredenzione l'espiazione dei peccati tutte tante le cose che sappiamo ma era anche cioè in Gesù e Maria tutto portato all'estremo la Madonna si definisce ecceancilla domini in greco edule la schiava del Signore Gesù nella lettera di San Paolo ai Filippesi nell'inno il famoso inno l'Achenosi si definisce fatto uomo presi la condizione non di servo ma di schiavo di nuovo c'è dulos quando Gesù nel Vangelo dice il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire dare la sua vita e riscatto per tutti prima aveva detto chi vuole essere grande sia vostro serbo ecco quindi serbo è uno che già è grande diakonos in greco da cui derivano i diaconi no? ordinati diakono significa servo ma chi vuole essere il primo si faccia lo schiavo di tutti e l'ultimo di tutti ecco di nuovo troviamo dulos quindi la meditazione è già quasi finita se vogliamo assomigliare alla Madonna ed essere quindi che cosa dobbiamo fare? allora numero uno per quanto sta in noi tendere a dare a Dio il massimo in tutto e per tutto ma non attenzione come una come dire come come un dovere come una cosa imposta ma come gioioso atto di ricambio da cui sarà molto più quello che riceveremo dal Signore che tanto ha a cuore l'amore della creatura che non quello che diamo a Lui ma secondo fare in modo che tutto questo amore che è piccolo cioè un essere umano diverso dalla Madonna anche come dire le anime che hanno più amato nostro Signore che cosa è questo in confronto a ciò che il Signore si merita e a ciò che gli è dovuto e a ciò che ci dà quasi nulla allora comprendiamo subito alcune espressioni no essa il suo amore e tutti gli atti suoi li emetteva nel Fiat Divino il suo amore lo emetteva nel Fiat Divino quindi che significa significa che attenzione al Signore da parte di Maria Santissima arrivava in continuazione interrottamente il fiume infinito di amore sparso in tutto ciò che Dio ha creato ma addirittura presente nella sua stessa essenza perché quando ci fondiamo qual è il primo posto dove si trova la Divina Volontà oltre che in tutta la creazione in Dio stesso e però gli arrivava tutto questo amore nella Divina Volontà come dire dal cuore di Maria perché ci deve essere anche come dire questa personalizzazione questa soggettivizzazione vuole essere Dio amato nella Divina Volontà perché solo così lo si può amare in modo degno di Dio però dentro la Divina Volontà lui vuole vedere i singoli piccolissimi come dire gli atomi di amore qualificati dalle caratteristiche soggettive di ogni persona il modo con cui io personalmente amo il Signore è diverso da come lo ami tu e dentro questo tu c'è chiunque indiretto indifferita avrà la sorte di ascoltare queste povere parole d'accordo quindi se io amo Gesù nella Divina Volontà Gesù riceve il ricambio d'amore infinito perché glielo sto offrendo nella Divina Volontà oh ma in questo mare infinito scorge i tratti di quell'anima particolare che sono io e che sei tu e che lui ha creato come un unicum per cui c'è una sfumatura d'accordo una peculiarità una caratteristica che è la tua ed è la mia che nessun altro a Dio può dare certamente la creatura più bella che Dio ha creato questo nessuno sia geloso mi raccomando anzi dobbiamo rallegrarci di questo qui è Maria Santissima lì ha dato il meglio di sé cioè ha sfoggiato proprio io ho qualche dubbio sono pronto ad essere contraddetto dall'altissimo stesso e mi rimangio subito tutto se non fosse vero ma come dire in linea teorica forse sarebbe pure non potendo limitare la divina onnipotenza possibile cioè a Dio tutto è possibile ma siccome io non lo so se questo si può fermare cioè se uno ha già fatto il top dei top cioè si potrà dire questo lo spongo come forma dubitativa che qualche cosa di più perfetto di di Maria sicuramente almeno non è stato creato perché questa creatura vale più così gli angeli santi messi insieme e certamente perché è la principessa e la regina del regno della divina volontà ma io ho il serio sospetto anche perché la sua proprio bellezza intrinseca peculiare di quell'anima insomma immaginiamo l'anima della Madonna che cosa possa essere non parliamo anche del corpo insomma della Madonna che cosa possa essere una perfezione assoluta quindi ecco però le perfezioni più limitate che siamo noi perché ciascuno di noi per come usciva Dio per quanto strano gli possa sembrare è una perfezione se noi potessimo vedere la nostra anima nel momento in cui in quel forse frammento di nanosecondo in cui che è che è stata tra l'atto creativo e poi l'infusione nello zigote dopo immediatamente si è macchiata col peccato originale questa è proprio una tragedia ma se noi chi lo sa se un giorno in paradiso nostro signore ci farà vedere questo 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 istante ma rimarremo incantati rimarremo che le anime sono tutte certamente diversamente belle ma tutte quante bellissime e non sanno di esserlo allora ciascuno di noi ami Dio con tutto se stesso ma ciascuno di noi lo ami come la Madonna nella divina volontà altrimenti sarà un amore spezzato sarà un amore intermittenza sarà un amore diviso perché appunto non trovato come quello di Maria in tutta la creazione ricordando questo vale per Maria vale anche per noi dice in tutte le cose l'abbiamo amata cioè questo lo sa chi viene alla divina volontà lo sa dovunque noi ci giriamo c'è un ti amo di Dio anche se non ci pensiamo non ce ne accorgiamo spesso non lo ricambiamo in ogni ente creato gli enti grandi insomma quelli di cui parliamo sempre il sole il cielo la luna le stelle le piante gli animali il mare i monti eccetera sono tutti ti amo sono tutte tante cose fatte per noi sono tutti atti di amore del Signore li troviamo dentro li troviamo fuori ma anche dentro di noi qualche giorno fa credo in qualcuna di queste meditazioni abbiamo meditato sulla bellezza e la perfezione del corpo umano su quanto ti amo insomma che Dio ci dice sappiamo che i tre moti della divina volontà fissi dentro ogni essere umano sono il battito del cuore la circolazione del sangue il respiro questo ce lo dice Gesù negli scritti ogni tanto facciamo qualche facciamo qualche ripasso ecco nella misura in cui il fiat regna e domina nella nostra anima dice il mio fiat dice Gesù rapendo il tuo piccolo amore tutto ciò che fai lo allarghi e lo porta dovunque dovesso si trova quando noi amiamo così il Signore punto primo gli facciamo sentire l'amore di ricambio di tutta quanta la creazione e il suo stesso amore punto secondo portiamo il suo ed il nostro amore dappertutto in qualunque cosa possibile immaginabile sia uscita dalle mani creative e dalla mente dell'altissima che quelle che noi non conosciamo non conosciamo quasi nulla chi lo sa cosa ci sta ai confini dell'universo non possiamo sapere questa cosa qui no? e allora concludiamo ecco imparando da Luisa dato che la Madonna ha compiuto questa operazione in maniera ininterrotta e perfettissima ed è una di noi è molto importante anche qui sembra veramente insinuata il pregare in Maria no? il vivere in Maria che è uno degli aspetti focali della consagrazione totus tu dice venga a nascondere il mio piccolo amore nel mare grande del tuo amore pensiamo se noi quando preghiamo c'è mai venuto da pregare in questo in questo modo no? e quindi nascondere il nostro piccolo amore nel grande mare dell'amore di Maria la nostra adorazione ma come avrà adorato Dio Maria? come? come ascoltava la Santa Messa? come partecipava alla Santa Messa la Madonna? quanto tempo stava in ginocchio? siamo provati a sbizzarrirsi la comunione come la prendeva la Madonna? come si preparava la Madonna la Santa Messa? come faceva l'ingraziamento? ecco quindi è sempre importante che anche nella consecrazione totus tu non c'è soltanto il vivere in Maria c'è anche il vivere con Maria quindi noi fondiamo le nostre operazioni nelle sue perfettissime ma per quanto riusciamo ad immaginarci attraverso la la nostra rappresentazione attraverso la nostra immaginazione che è uno strumento fondamentale nella preghiera procuriamo anche di imitare Maria come parlava Maria a cosa pensava Maria quali opere compiva Maria per le donne che tipo di femminilità aveva Maria che tipo di donna incarnava Maria che rapporto c'era tra Maria e San Giuseppe come vestiva Maria quindi quindi e questo perché il nostro amore la nostra adorazione e anche le nostre pene i nostri sospiri le nostre sofferenze quelle piccole quelle grandi quelle che viviamo a titolo personale quelle che viviamo come membri delle varie comunità della famiglia del gruppo dei parenti tra colleghi di lavoro tra gli ambienti di lavoro in parrocchia nella chiesa nella città dove viviamo nella società civile nel mondo ecco uniamo sempre tutto a ciò che fece la Madonna non solo perché lei ha fatto tutto in maniera perfettissima ma perché è una facilitazione immensa d'accordo a far scorrere immediatamente tutto quello che facciamo nella divina volontà perché le adorazioni di Maria erano tutte adorazioni nella divina volontà l'amore di Maria era sempre circolante diciamo così e fluttuante nella divina volontà e quindi si trova dappertutto questa è una delle operazioni fondamentali e attenzione è vero che Gesù e Maria nella loro missione terrena questo letto tante volte avevano come atto primo come fine prossimo il compimento dell'opera della redenzione lo sappiamo perché dopo il peccato se non ci fosse stata la redenzione la divina volontà ce la potevamo completamente dimenticare quando una persona è schiava del peccato schiava del diavolo così è l'umanità se stava l'umanità se non ci fosse stata la redenzione ma dove la vedi la divina volontà lo vedi proprio però certamente loro si sono occupati principalmente di compiere l'opera della redenzione perché poi il regno della divina volontà fa parte di un secondo step fortunato chi lo vedrà sicuramente io sono convintissimo che dopo la fine di questi tempi veramente pazzeschi che stiamo vivendo di questa grandissima tribolazione in cui siamo immersi duemila anni dopo la redenzione numero che non può essere causato ci dovrebbe cominciare a vedere qualcosa di bello nel mese di maggio io ribadisco che ho mia personalissima e fermissima convinzione che il trionfo del cuore immacolato di Maria non avendo la Madonna nessun'altra vita che quella nella divina volontà sarà certamente qualcosa che ha a che fare con il regno della divina volontà ecco nel frattempo cominciamo ad abituarci a viverci in esso e anche a trovare in esso un rifugio la madonna la madonna di sa fatima il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a dio no quindi attraverso il rifugio nel cuore immacolato noi siamo custoditi dalla divina volontà e preservati da ogni male dalla possibilità anche di essere colpiti in qualche modo dal male ecco il mio cuore immacolato sarà il tuo rifugio e la via che ti condurrà a dio a dio a dio a dio e non santa vergine maria oggi il signore sarà di nuovo condotto nel tuo piccolo grande segreto che era far scorrere tutto nella divina volontà per dare a dio tutto ciò che lui merita ecco creando tante di quelle catene d'amore così grande che quando lui scese nel tuo grembo si trovò inanellato e accerchiato tutta questa montagna di infinite bellissime catene d'amore ecco aiutaci a le catenelle sono i segni di coloro che si sono consacrati totus tuus ecco ma non siano soltanto dei segni esteriori ma appunto dei segni interiori della nostra volontà di essere dolcemente soavemente ininterrottamente incatenati a te e a lui e come te di cercare di incatenarlo nelle dolci catene del nostro amore offertogli in te e con te nella divina volontà nella divina volontà nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen fiat ave maria Grazie a tutti.